Biodegradabilità. Come dice il nome, è la potenzialità delle sostanze, sia naturali che quelle fatte dall'uomo, di andare incontro ad un processo di biodegradazione. La biodegradazione è la riduzione di una sostanza ai suoi minimi termini, cioè a molecole semplici che non possono essere ulteriormente scomposte e che rientrano nei cicli della natura. In particolare ci si riferisce all'anidride carbonica che è un gas dell'atmosfera. Con la fotosintesi le piante assorbono dall'atmosfera l'anidride carbonica e formano tessuti vegetali. Queste sostanze si trasferiscono nella cosiddetta catena alimentare, ossia gli erbivori mangiano le piante, i carnivori mangiano gli erbivori, e infine si arriva alla biodegradazione che è mediata da microrganismi, durante la quale le sostanze tornano a diventare anidride carbonica. Quindi da una parte con la fotosintesi si tira anidride carbonica dall'aria, con l'altra con la biodegradazione si rimette anidride carbonica nell'aria chiudendo il ciclo del carbonio. I materiali biodegradabili fatti dall'uomo si inseriscono in questo ciclo naturale e possono essere degradati dai microrganismi come le sostanze naturali.